La questione Corea del Nord preoccupa la Russia, come confermato dal presidente Putin durante l'incontro con il premier giapponese Shinzo Abe. Obiettivo comune ai due paesi, ha affermato il leader del Cremlino, è la ripresa delle trattative a sei con USA-Cina e le due Coree. A Mosca, la corrispondente di Aeronius ha chiesto un parere ad alcuni esperti. La situazione della Corea del Nord è molto preoccupante, preoccupante per noi, per la Russia, per la comunità internazionale. I due leader hanno discusso questo aspetto in modo molto franco e quindi il primo ministro Abe ha chiesto al presidente Putin di avere un ruolo costruttivo per provare ad esercitare la pressione necessaria che serve alla Corea del Nord. Importante è anche il ruolo della Corea del Sud, come sottolineato dall'ex ambasciatore, che insieme al Giappone è d'accordo sulla necessità di massimizzare la pressione su Pyongyang. Il nostro obiettivo è quello di cercare di persuadere i nostri partner negli Stati Uniti, Giappone e India che se parliamo dobbiamo davvero parlare invece di gridare a Pyongyang dal confine con dei megafoni mantenendo gli aerei da guerra vicino alle loro coste. perché la scintilla potrebbe scoppiare da un momento all'altro dove accadrà, se Corea del Nord, USA o Giappone, è difficile adesso dare delle garanzie certe.